Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Oggi doppio video, anche se per YouTube è come se non fosse successo nulla stamattina, dato che in tantissimi ci avete scritto in privato per segnalarci l'assenza della notifica ed effettivamente me ne sono accorto anche col mio profilo privato. Siamo alle solite. Se vi foste persi il video di analisi di entrambi i trailer degli operatori, ve lo lascio alla fine di questo. Però ora concentriamoci sulle ultime notizie. Come prevedibile c'è stato il reveal ufficiale di Jalal Qaid El Fassi, il nuovo difensore di Operation Wind Bastion. Nell'immagine ha un aspetto super fiero e ovviamente nel comunicato, che vi lascio in descrizione, c'è una sintesi della sua storia. È inutile leggerla, anche perché la vedete a schermo. Voglio soffermarmi però sulle parti importanti. Ma prima vi mostro anche il logo. Credo sia un diamante con una giambia conficcata all'interno. Vorrei capire solo se quel pugnale sarà estetico o avrà un'utilità in gioco. Ma per quello ci tocca aspettare ancora. Dal video di Kaid del canale brasiliano di Rainbow Six ho recuperato questa miniatura. Qui abbiamo un'anteprima quasi completa dell'operatore e soprattutto vediamo finalmente la sua arma. Ad un primo sguardo sembra una via di mezzo tra il fucile d'assalto AUG Para e il fucile a pompa Keltec KSG. Ma sinceramente ricorda tantissimo il VMP di Black Ops. Cosa ne pensate? Comunque Kaid è il leader della fortezza e ovviamente si occupa anche dell'addestramento delle reclute. Insegna a tutti i nuovi arrivati ad essere autosufficienti. Questa è un'abilità che la sua ex allieva, nonché il nuovo membro degli assalitori di Rainbow Six, padroneggia alla perfezione. Questo è un chiaro riferimento a Nomad, la nuova operatrice offensiva che vi ho già mostrato questa mattina, ma che verrà rivelata ufficialmente solo nei prossimi giorni. A quanto pare è un ex allieva di Kaid. Il gadget del nostro nuovo difensore a quanto pare si ispira ai ragni. Anche il suo nome, Rtila, ha a che fare con gli arachnidi. Già ci vedo in gioco a cercare di dare un nome a questo cavolo di gadget. Rtila, come gli è venuto in mente un nome del genere? Vabbè, la cosa fighissima è che non si limita ad elettrificare botole e muri rinforzati, ma addirittura anche scudi mobili e filo spinato. Ora voglio solo vederlo all'opera perché sono curiosissimo. Gameplay e dettagli sui due nuovi operatori verranno mostrati durante le finali di Pro League, che si svolgeranno in Brasile il 17 novembre dalle 13.45 alle 21.30 ed il 18 dalle 14.45 alle 21 e che potremo seguire sui canali ufficiali di Ubisoft. Io vi consiglio di iscrivervi già da ora al canale Twitch di Ubisoft Italia, che vi lascio in descrizione, perché anche lì saranno attivi i Twitch Drops. Per chi non lo sapesse, sono dei ciondoli universali in-game che possono essere sbloccati comodamente da casa, semplicemente assistendo all'evento e streaming. Per ottenerli basterà collegare il vostro account di Twitch a quello di Ubisoft tramite il link che vi lascio sempre in descrizione. Se avete già partecipato ai drops precedenti, questo passaggio non sarà necessario. Già che ci siete però, dato che abbiamo aperto il canale di Twitch dove giochiamo con gli iscritti live, passate anche da lì e cliccate sul simbolo del cuore per iniziare a seguirci. Mi sembra il minimo. La Ubisoft non ha comunicato le ore di visione necessarie per sbloccare i sei ciondoli, ma come al solito, più tempo guarderete, più ciondoli otterrete. E ho fatto anche la rima. Partendo dal bronzo e arrivando fino al diamante. Questi sono proprio belli, il diamante è finalmente di color diamante. Vi ricordo che è possibile ottenere questi ciondoli anche seguendo le finali dallo smartphone, ma vi consiglio di non chiudere e riaprire la live troppe volte e di non cambiare canale, poiché il sistema potrebbe non registrare correttamente le vostre ore di visione. Dunque, meglio evitare problemi. Prima che me lo chiediate, non è necessario essere abbonati a Twitch Prime per ricevere questi ciondoli. Sono totalmente gratuiti e sono validi per tutte le piattaforme, cioè PC, PS4 e Xbox One. Una volta sbloccato un ciondolo vi comparirà una notifica su Twitch e dopo un po' di tempo, spesso anche ore o giorni, lo troverete automaticamente nel gioco, pronto per essere equipaggiato. Io cercherò di sbloccarli tutti anche perché seguirò sicuramente le finali e vi aggiornerò su news e risultati tramite i nostri social. Voi che intenzione avete? In quanti proverete ad ottenere il diamante? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Passate dalla descrizione per tutti i link utili e lasciate tantissimi like. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Come, break your back against a mountain.